Ciao a tutti, bastardoni. Perché siamo qua stasera? Ragazzi, allora, è importante questo video, è molto importante. Ok, alza la voce perché sennò non sentono. Questo video non sarà tagliato perché dovete sentire tutto. Quindi state qua un quarto d'ora a sentire. E ve lo giucciate tutto. Sì, sì. Allora, Nello, inizia. Purtroppo siamo qui per dirvi arrivederci. Sì. Purtroppo un po' per motivi personali, familiari e lavorativi di ognuno di noi. Un po' anche il lockdown che comunque non ci ha permesso di vederci. Quelle poche volte che si poteva far uscire dei video. Giacchone mi portava la telecamera, poi io facevo i video da solo, gliela riportavo e inoltre gli svariati impegni che ognuno di noi nella propria vita personale si trova ad avere, siamo giunti alla decisione di dire arrivederci. Sì, non faremo più video su YouTube. Ok. YouTube, il canale YouTube rimarrà comunque aperto. Anche perché con tutti i video che abbiamo non possiamo toglierli lì. Ok? E comunque nel caso in cui ci venisse voglia di fare due chiacchiere con voi, è sempre un ottimo punto di ritrovo per poter fare una live e fare due chiacchiere. Certo. Però nonostante tutto, con diciamo una chiusura del canale che poi il canale rimarrà, noi però continueremo su Instagram. Quindi su Instagram ci saremo sempre, sempre sulla solita pagina e basta, quindi così. Ci saranno foto, ci saranno storie, storie. Diciamo che ci dedicheremo soltanto a Instagram, essendo avendo tre telefoni, ognuno ha la propria vita, se a lui arriva un prodotto fa lui, se arriva a me se arriva a lui, eccetera eccetera. Ok? Così non abbiamo più problemi di logistica. Anche perché, ragazzi, purtroppo l'attrezzatura è di Ceccone, talvolta era libero lui ma non eravamo disponibili nel visello, oppure viceversa. E quindi abbiamo detto non possiamo andare avanti in questo modo, quindi diciamo un arrivederci a YouTube e basta. Ovviamente, grazie veramente a tutti perché, quanti anni sono? Tre? Quattro? Eh sì, più o meno. Quattro anni. Quattro anni di video ne abbiamo fatti, vi abbiamo conosciuto tutti al Vapitali, praticamente a tutti i Vapitali, siamo stati veramente felicissimi, ci avete riempito il cuore, ce lo riempite ancora adesso con tutti i commenti e le cose. Vi vogliamo tutti bene, però non spariamo, quindi rimaniamo su Instagram. Spariamo, ho detto giusto? Non spariamo, non spariamo, sì, non è che lo spariamo, non sparischiamo, non sparischiamo, non andiamo via, ecco, rimaniamo su Instagram ma su YouTube. E nel momento in cui si potrà finalmente rivederci a una benedetta fiera, ci si rivedrà, noi ci sarete, senza altro, io il visare lo sicuro. La birretta insieme, vi conosciamo, sappiamo chi siete, gli intimi e quelli che vi abbiamo sempre incontrato e nulla ci vieterà di fermarci a parlare con voi, come abbiamo sempre fatto, perché noi siamo così, assolutamente. Belli, veri e sinceri, dai, belli lasciamo stare. Va bene. E comunque niente, quindi ci trovate su Instagram, ripeto, il canale sarà sempre, ci sarà sempre, non sparisce, i video, quindi potete andare a vedere anche i video vecchi, rimane tutto quello che avete visto fino ad ora, però continueremo su Instagram, per motivi praticamente logistici, e personali, e personali. Benissimo. Quindi ringraziamo veramente tutti, ringraziamo tutti, dal primo all'ultimo iscritto, e anche grazie per averci seguito, grazie per tutto. Grazie. E quindi, con l'ultima domanda di tutti e tre, a sto punto, vi salutiamo, ciao, ci vediamo, arrivederci, e ci vediamo su Instagram. Sì, assolutamente. 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 Ciao. Ciao. Ciao.